Quante volte tu che stai guardando questo video hai sentito l'Italia potrebbe vivere di solo turismo? Io l'ho sentito migliaia di volte. C'è questo pensiero fisso di moltissimi italiani che è anche sparso tra alte sfere, perché io poi sento comunque personaggi discretamente famosi che dicono potremmo vivere di turismo, potremmo vivere di solo turismo soprattutto. Io ci pensavo, dicevo, non è male come idea vivere di turismo, tranquillo diciamo. Crescendo però ho realizzato che questo è un pensiero veramente, veramente dannoso, dannosissimo. Quale paese serio può vivere di solo turismo? Quando dicono, eh sì potremmo vivere di turismo, l'Italia sta crescendo col turismo, io non sono contento. Badate bene, non sto intendendo che sono contro quel settore. Anzi, spesso sono lavori dove in Italia soprattutto si viene pagato poco rispetto alle ore che si lavora. Non sto, ribadisco, non mi sto riferendo a questo. Io mi sto riferendo a un altro concetto. In Italia sta venendo veramente spinta, spinta di brutto dai media, questa mentalità per cui no, noi dobbiamo essere bravi nella ristorazione, nella villeggiatura e via dicendo. E ribadisco, di per sé non è sbagliato questo concetto. Il problema è quando ogni giorno, tassativamente ogni giorno, quasi tutti i telegiornali nazionali e regionali dicono, ah guarda che bravi gli italiani che tagliano il melone a George Clooney. Come sono bravi. Sul lago di Como siamo molto bravi a tagliare il melone, l'anguria a George Clooney. E io dico... Sti gassi. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che un paese serio, un paese progredito, non può vivere di solo turismo? Questo è un pensiero di un paese che pensa di vivere di rendita. È il pensiero di un paese che si sente arrivato, che pensa che la storia sia finita. E qua arriviamo al fulcro del video, ragazzi. Oh, vi sto facendo questo discorso. Io parlo di solito di guerra, di relazioni internazionali, via dicendo. Ma questo non è un discorso, no? Sulla società così. È un discorso che poi è un risvolto anche nella guerra, anche nella grande strategia, in tutte le cose che io tratto nel canale. Ed è molto grave che questa narrativa venga continuamente riproposta alle persone. E poi le persone ci credono. Cioè, ci fanno sentire quelli che arrivano lì, ti danno le chiavi. Guardate, questa è la mia casa. Ribadisco. Non ce l'ho con i villeggianti veri e propri, non ce l'ho con i gestori di albergo, di hotelli, via dicendo. Per favore, capite il discorso che sto facendo. Io ce l'ho con chi continua a mandare avanti questa diamine di narrativa, che è dannosissima. I paesi seri vivono di industria. A me è veramente scoccia andare su Instagram, su TikTok, vedere sti americani che fanno le storie, fanno la luna, mezzo mare, questa musichetta qua che conoscerete tutti, immagino, con sti meloni, taralli, ah che buono, tralli, tralli, pasta, caprese. Siamo questo per loro. Noi siamo la caprese. E non c'è niente di male. Dovrebbe essere un contorno questo, non dovrebbe essere la pietanza principale. Il turismo, la caprese, la pizza, va bene, ma deve essere un contorno. Poi ci deve essere la pietanza, che deve essere grande industria, potenza, potenza non solo militare, potenza politica, all'estero, nell'interno, e via dicendo. Cioè, io non ce l'ho con gli americani che fanno queste storie, anche parzialmente con loro, perché ci riducono a una macchietta, non solo gli americani, ovviamente inglesi, e molti altri, che arrivano, no, a grandi ondate nel nostro paese, e per loro è un po' come stare a Narnia, no, cioè possono fare un po' il cavolo che gli pare, ed è questo bello mondo fantastico, Lake Como, dov'è Lake Como? E queste cose qua, va bene, tutto bello, tutto bello, però da parte nostra, la colpa di chi è? È nostra, che dobbiamo iniziare a tirare fuori un po' gli attributi, e a dare al mondo una pietanza principale, prima di tutto a noi stessi, e poi al mondo, perché poi di riflesso, poi il mondo una volta che vede, ah, guarda l'Italia, come si comporta, ha cambiato atteggiamento, il problema però è che questa narrativa di cui ho parlato non diventi veramente imperante, non entri nel cervello di tutti gli italiani di essere dei servitori, dei camerieri, ribadisco, non ce l'ho con chi fa il cameriere di mestiere, sto parlando in modo figurato, il problema è che non si diventi veramente i camerieri del mondo, come mentalità, perché è questo che ci stanno riproponendo in continuazione, e non va bene, accendete il cervello, utilizzate il cervello quando vedete il telegiornale, ditole ai vostri genitori, ai vostri nonni, e via dicendo, gli italiani non sono i camerieri di nessuno, in questo senso, veramente, abbiamo le possibilità, sfruttiamole. Il messaggio era molto sentito perché lo sento particolarmente, io tengo al mio paese, e niente ragazzi, vi ricordo, mettete mi piace, ditemi cosa ne pensate, ovviamente, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti in merito perché non ne ho mai parlato di questo argomento e non l'ho nemmeno fatto in maniera così viva, almeno su YouTube. Ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, mettete mi piace, abbonatevi, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Davide.